Ciao a tutti, come sedurre con la mascherina? In questo video voglio insegnarti come sedurre anche ai tempi della mascherina e con la paura magari di incontrare persone che non si conoscono questo timore di potersi infettare, tra virgolette e ti spiegherò come utilizzare al meglio quindi queste strategie Intanto iscriviti al canale e ci tengo molto che tu ti iscrivasi a questo nuovo canale e se ti iscrivi e fai iscrivere i tuoi amici avrai la possibilità poi di vincere anzi vincerai sicuramente se arriveremo a 100.000 iscritti entro il 30 giugno un seminario gratuito che farò quindi se fai iscrivere i tuoi amici e arriviamo il 30 giugno a 100.000 iscritti farò un seminario gratuito a cui tu potrai partecipare di tre ore Allora, veniamo al tema Intanto seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco Veniamo al tema Allora, in questa situazione diciamo che dovremmo abituarci probabilmente per tempi anche abbastanza lunghi ad avere un po' di paura e a muoverci con questa famigerata mascherina Ora, come cambia la seduzione? Beh, cambia drasticamente perché intanto ci sono meno possibilità di approcciare per gli uomini e di essere approcciate per le donne, ovviamente C'è un po' di diffidenza perché quando incontro una persona scatta quella diffidenza non è che si dà la caccia all'untore però un po' di diffidenza scatta un po' di paura anche perché potresti dire magari questa persona chi è, chi non è mentre una volta si utilizzavano strategie si potevano utilizzare anche strategie di seduzione completamente diverse tra cui ad esempio la prossemica che nella seduzione è fondamentale potersi avvicinare a una persona poter entrare in contatto fisico anche casuale Ora questo non è più possibile bisogna sedurre a distanza bisogna sedurre a distanza e mantenendolo a distanza di un metro quindi si perde tutta una possibilità di comunicare a livello non verbale si perdono un sacco di possibilità nella seduzione perché ovviamente il contatto fisico era quello che faceva scattare le emozioni e invece anche variare la prossemica avvicinarsi a una persona insomma la seduzione avviene molto a livello non verbale e quindi con il rispetto delle distanze di un metro o due metri in molti ambienti sarà molto difficile anche comunicare e soprattutto dare stimoli emotivi soprattutto dare stimoli emotivi in più c'è questa paura questa diffidenza che se ti avvicini e se trasgredisci potresti poi pagarne le conseguenze è ovvio che la seduzione diventa molto molto più complicata e purtroppo si entra in una situazione in cui bisogna riuscire a conquistare tra virgolette molto di più in modo cerebrale in lontananza quindi si diffonderanno e si diffondono sempre di più le possibilità di conoscenza via web anzi direi che in questo periodo le conoscenze dal vivo a meno che non sia una persona che già conosci sono direi molto molto limitate certo tu puoi provare a corteggiare una persona anche a distanza diciamo così ma non potendo frequentare i locali o comunque nei locali se entrono alla volta mantieni la distanza nei bar se entrono alla volta mantieni la distanza non ci sono feste non ci sono locali dove si può andare la conoscenza dal vivo è molto limitata anche il famoso supermercato dove potevi fare sbattere il carrello e conoscere la persona adesso diventa tutto più complicato la seduzione patisce molto da questo punto di vista quindi come fare a sedurre con la mascherina beh intanto bisogna rallentare molto i tempi come in tutto bisogna rallentare molto i tempi e l'ideale è quindi fare una conoscenza prima virtuale virtuale per forza quindi attraverso i social io direi di non rivolgersi tanto alle app di incontri perché comunque non sai mai chi vai a trovare ma soprattutto diciamo è facile trovare uomini mediocri per non dire di scarso livello di scarsa qualità è anche facile trovare donne mediocri di scarso livello di scarsa qualità molto meglio rivolgersi ai social primo perché nei social quando parlo di social intendo facebook e instagram hai la possibilità di avere una conoscenza più ampia della persona quindi in questo periodo conviene anche molto sia per le donne che per gli uomini curare il proprio profilo instagram e il proprio profilo facebook per le donne è meglio diciamo mettere foto fatte bene in cui risulta la tua sensualità in cui risulta la tua diciamo bellezza cerca di esaltarla ma devono risultare anche altre cose se no rischi di far come dire scattare nell'uomo meccanismi di squalifica e anche per quanto riguarda l'uomo in questo periodo specialmente è importante dare un'immagine di stabilità di stabilità e di solidità quindi creare dei programmi dei profili diciamo così facebook e instagram valorizzare la propria stabilità e la propria capacità di superare tranquillamente anche momenti difficili diventa una delle cose sicuramente più attrattiva per gli uomini ma comunque anche attrattiva per le donne non tanto non conviene puntare troppo sulla prestanza fisica sia per gli uomini che per le donne ma soprattutto puntare sulla capacità di adattamento a queste nuove situazioni ecco questo è la cosa fondamentale che tu dovresti imparare a fare in questi in questi contesti quindi ancora oggi ancora più di prima va curata meglio la propria immagine che deve essere l'immagine della persona solida e in questo modo puoi agganciare o essere agganciato diciamo così tramite i tuoi contatti sia su Instagram che su Facebook è importante quindi in queste situazioni gestire più contatti in parallelo perché devi fare una prima discriminante per capire se la persona che è davanti poi vale la pena incontrarla anche perché poi l'incontro sempre con una persona sconosciuta certo può avvenire ma con molte più limitazioni rispetto a prima quindi da questo punto di vista ci può essere un incontro magari ci può essere anche una cena ma limitata da tutte le situazioni del caso quindi è importante creare un'immagine il più reale possibile e cercare di conoscere al meglio la persona prima dell'incontro dal vivo quindi oltre alle chat è importante anche effettuare delle telefonate è importante anche effettuare delle videotelefonate per una conoscenza graduale e non è difficile riuscire a farlo sia che sei uomo sia che sei donna se sei donna puoi magari mandare qualche messaggio con qualche scusa a qualche profilo che ritieni particolarmente interessanti in questo periodo puoi anche fare il primo passo per gettare l'amo poi è ovvio che devi lasciare all'altra persona devi agganciare ma mantenere le distanze beh un modo può essere quello di diciamo utilizzare una situazione per entrare in contatto con questa persona e poi portare avanti una conoscenza virtuale senza però per così dire trasmettere proiettare ecco quindi deve essere il più realistica possibile e poi ci può essere anche una conoscenza l'ideale per quanto riguarda la conoscenza piuttosto che fissare l'appuntamento in un bar o in una situazione del genere è molto meglio scegliere un appuntamento più informale più informale come ad esempio una passeggiata che può essere anche una passeggiata in centro dove si può chiacchierare magari mantenendo le distanze andando in un giardino in un parco in qualche situazione dove è possibile diciamo così portare avanti una conversazione purtroppo le limitazioni sono inevitabili e dopo un certo numero di incontri diciamo che è necessario da questo punto di vista poter creare una situazione un po' più romantica ma senza eccedere quindi un invito a cena ad esempio si può fare presentandosi magari come coppie in modo tale da mantenere un po' di più le distanze le distanze un po' di più ravvicinate e diluire comunque la conoscenza nel tempo cercando di mantenere le giuste precauzioni per non correre rischi e per non vivere la situazione in modo negativo quindi diluire molto nel tempo queste situazioni fare più incontri e tra tutte queste persone diciamo che per la donna c'è anche un vantaggio che è quello di trovare una scusa per negare il possesso ma anche per l'uomo spesso non ha voglia diciamo di fare delle avance proprio perché si teme comunque di fatto in un modo o nell'altro la possibilità di essere contagiati in qualche modo quindi diventa tutto più diluito diventa tutto più statico e direi che in questo periodo è importante porre le basi con più di una persona in modo tale che nei prossimi mesi sperando che le cose vadano per il meglio si potrà consolidare quindi questo non è ancora il tempo del raccolto dal punto di vista della seduzione ma può essere il tempo della semina e seminare però prevalentemente online approccio online offline per gli uomini in questo periodo sono veramente difficili e non vale la pena spendere energie però magari si può frequentando che ne so una persona anche iniziare un dialogo leggero senza manifestarsi subito creando una rete di contatti ecco credo che questo sia il momento migliore per la creazione della rete di contatti sperando poi che questa rete possa dare i suoi frutti nei prossimi mesi ecco quindi questa è la strategia che bisognerebbe tenere in questo momento quindi diverso è il fatto con persone che già conosci per cui ci può essere un approccio un po' più diretto ma in questo momento la cosa migliore è sempre quella di coltivare e creare coltivare e creare anche perché poi un consolidamento un inizio di relazione risulta veramente difficile e tutte le cose che vengono fatte con un po' di paura un po' di titubanza non è che funzionano molto bene lascia nei commenti qua sotto quello che è stata la tua esperienza di in questo periodo di seduzione come seduttore o seduttrice o essere sedotto o essere sedotta e come stai vivendo le nuove conoscenze con questo diciamo con questa problematica e inoltre iscriviti al canale ci tengo molto che tu ti iscrivi e ti ricordo che se ti iscriverai farai iscriveri ai tuoi amici e arriviamo a 100.000 iscritti per il 30 giugno ci sarà per te un corso gratuito online ciao a tutti